L'incubo 2008 sembra essere ritornato sulla scena. Il 15 settembre del 2008, la Lehman Brothers, una delle banche più importanti al mondo, presentò istanza di fallimento, diventando la più grande banca rotta della storia degli Stati Uniti. Questo evento innescò un panico pazzesco sui mercati finanziari, generando panico, devastazione e una crisi finanziaria globale che fu una delle peggiori dell'ultimo secolo. Ma qualche giorno fa un altro grande attore del settore bancario è crollato pericolosamente, ovvero la Silicon Valley Bank, che è fallita il 10 marzo e che al momento della chiusura deteneva asset per circa 209 miliardi di dollari. Il fallimento di questa banca rappresenta il secondo fallimento bancario peggiore dopo quello del 2008 e di tutta la storia degli Stati Uniti. La cosa incredibile è che a distanza di sole 48 ore dal fallimento della Silicon Valley Bank, anche la Signature Bank è crollata e rappresenta il terzo fallimento bancario più grande della storia degli Stati Uniti. Insomma, che cosa sta succedendo? C'è per caso il rischio di un effetto contagio verso le altre banche? E per caso c'è il rischio che possiamo assistere ad un altro grande e devastante tracollo, come quello a cui abbiamo assistito durante il 2008? Tra poco ti darò il mio onesto parere. Però prima di vedere questo lato del video, cerchiamo di capire che cosa ha scatenato questa grande crisi della Silicon Valley Bank e che l'ha fatta fallire. SVB era una banca specializzata nel fornire servizi finanziari per i fondi di venture capital e per le startup nell'ambito tecnologico. Quindi il suo obiettivo era quello di fornire la liquidità per finanziare i progetti in ambito tecnologico. Durante la pandemia le imprese tech ottennero un'immensità di liquidità dagli investitori. Questa liquidità però, non potendola investire poiché tutto era chiuso, decisero di parcheggiarla presso i conti correnti della Silicon Valley Bank. La banca però utilizzò questi depositi per i suoi personali investimenti. Pi in particolare decise di investire questi depositi in titoli di Stato in obbligazioni di lungo termine. Il punto è che la Silicon Valley Bank non sapeva che poi a distanza di un anno e mezzo i tassi di interesse sarebbero aumentati alle stelle. Manco dirlo, è successo proprio questo. La Federal Reserve ha inalzato i tassi di interesse in meno di un anno fino al 4,75%, creando devastazione fra il settore obbligazionario. Infatti ricordiamo che quando i tassi di interesse aumentano, le obbligazioni di nuova emissione rendono di più. Quindi gli investitori decidono di investire in obbligazioni di nuova emissione piuttosto che in quelle vecchie, in quanto sono in cerca di un profitto più elevato. Per cui se c'è meno domanda per le obbligazioni vecchie in quanto rendono di meno, il loro valore diminuirà. E questo è quello che è successo con la situazione della Silicon Valley Bank. Quindi se da un lato l'aumento dei tassi ha scatenato e ha inflitto dei grandi dolori per il portafoglio obbligazionario della Silicon Valley Bank, dall'altro lato ha causato un altro problema, cioè un aumento dei rendimenti da pagare ai depositanti. Infatti le imprese che hanno depositato presso una banca pretendono degli interessi che siano in linea con quello che offre il mercato. Quindi concludendo, l'8 di marzo la Silicon Valley Bank per rimborsare depositanti si è ritrovata a vendere un portafoglio obbligazionario da 21 miliardi di dollari con una perdita di 1,8 miliardi di dollari. Questa decisione ha scatenato il panico fra investitori che hanno venduto il titolo facendo crollare il titolo della banca di circa il 60% il giorno seguente. Ovviamente questa cosa ha scatenato una corsa al prelievo e poi l'intervento del governo che ha deciso di chiudere la banca. La cosa incredibile è che a distanza di sole 48 ore anche un altro colosso americano bancario è crollato, ovvero la Signature Bank che rappresenta il terzo fallimento più devastante nella storia del paese. Questa banca era la ventunesima banca più grande sul territorio americano. Oltre a questo era molto conosciuta perché era uno dei più importanti istituti per le società cripto. Ora la domanda che tutti si pongono è la seguente. Ma per caso con questo fallimento che abbiamo visto c'è per caso il rischio di un effetto contagio che possa scatenare poi un tracollo stile 2008? Cerchiamo di rispondere. A mio avviso è altamente improbabile. Dopo la repentina successione di fallimenti, quindi prima la Silicon Valley Bank, poi la Signature Bank, il governo ha deciso di scendere in campo per attuare un piano aggressivo e per ristabilire l'equilibrio e per evitare una crisi finanziaria globale. Più in particolare ad essere scesi in campo sono stati la FDC, la Fed e il Tesoro, che hanno deciso di garantire nuovamente per i depositanti i depositi effettuati presso la banca. Quindi questa mossa mira a tutelare le centinaia di startup che avevano depositato milioni di dollari presso la Silicon Valley Bank. Ma i provvedimenti non finiscono qui, perché la Fed ha deciso di aprire anche una finestra di liquidità per aiutare quelle banche in affanno che potrebbero ritrovarsi con il problema dei clienti in fuga in futuro. Quindi queste mosse, queste azioni veramente forti e importanti dimostrano come il governo si sia posto l'obiettivo di tutelare l'economia americana ma anche la stabilità finanziaria globale e di disinnescare l'effetto contagio che sarebbe veramente devastante. Questo piano, a differenza di quanto sostengono in molti, in realtà non è un salvataggio, bensì è una tutela verso i depositanti. Di sicuro non è una tutela verso chi aveva investito nelle azioni oppure nelle obbligazioni di queste società fallite. Infatti gli investitori purtroppo sono quelli che ora si leccano le ferite più dolorose. Comunque il caso della Silicon Valley Bank possiamo definirlo come un'anomalia del sistema, in quanto questa banca si concentrava su un settore specifico, cioè sul fornire servizi finanziari per le start-up ad alto tasso tecnologico. Oltre a questo la banca aveva gestito molto male la sua posizione finanziaria, in quanto cercava rendimenti alti in un contesto in cui i rendimenti erano molto bassi per le obbligazioni. Infatti ricordiamo che durante il 2020 le banche centrali regalavano denaro praticamente a costo zero, sia per le imprese che per i cittadini, per cui ottenere denaro era molto facile in quanto il costo del debito era molto basso. Ora le cose sono drasticamente cambiate e il governo ha deciso di scendere in campo per evitare il manifestarsi di una crisi finanziaria globale come è successo durante il 2008, con il crollo della Lehman Brothers. E per evitare che la situazione si riscaldi ancora di più, nonostante sia già incandescente, con il problema della guerra in Ucraina, con il problema del tetto del debito, con l'inflazione che fatica a scendere e con i tassi di interesse che sono alle stelle. Insomma, nonostante la scossa di terremoto sembra essersi calmata per il momento, questo non sta a significare che nei prossimi mesi non si possa manifestare qualche altra sorpresa devastante in grado di scuotere i mercati. Staremo a vedere, io comunque vi terrò aggiornati con tutto quello che succederà. Per oggi è tutto, grazie per la visione di questo video e ci vediamo prossimamente con altri contenuti. Alla prossima!